i cremosi conad, mentre vi guardate youtube, baioli freschi, questo ad esempio sono una banana, oppure vi bevete un po' di coca cola bra fresca, o te alla pesca, Cesare Marchi, quando eravamo povera gente, eravamo rimasti, siamo quasi alla fine di questo libro, stiamo facendo la rivoluzione, ma quella vera, non chiacchiere, il filo è stata i contadini trascorrevano le sere degli inverni di guerra in stalla a far filò, chi giocava a carte, chi fumava la pipa, oppure portate dal file militare in licenza, le sigarette milit, merda italiana elaborata in tubetti, le ragazze filavano la lana delle pecore scorticate a zero, tutti immersi nell'acra sauna del fiato bovino mescolato ai fluvi di orina e di latte appena munto, una terziaria francescana internava il rosario e a ogni ave maria ciascuno formulava una tacita preghiera, che non venisse alla grandina, che la muca partorisse senza imboccare il veterinario, che tornasse presto il moroso alpino in Russia, la conversazione in storia alternata a qualche coro campagnolo, sotto la dondolante lampada petrolio, formava l'unico passatempo dopo cena, un modo ingenuo di trascurrere il tempo libero, prima che il tempo libero diventasse un incubo sociologico, c'era un bovaro bravissimo a raccontare storie di strega e di fantasmi, ai bambini seduti sulle alte bale di paglia, le gambette penzolone, le braccia concerte, gli occhi beati spalancati alle fiabe, era la loro tv, senza l'interruzione della pubblicità, diceva che di notte i morti uscivano dal vicino sani di custodia, a fare le boccacce ai tedeschi, a quartierate nei dintorni, e che una sera, caro Alberto e la Marmora, i due sconfitti del 1848 e del 66, si erano presentati in un'osteria in carne e ossa divisa e sciabola, chiedendo da mangiare, fantasticheria, ma quella che raccontava il vecchio bastiano autodidatta, detto il maestro perché da giovane era stato moroso della serva della maestra del paese, era la pura verità, o quasi, quando parlava lui tutti ammuttolivano, perché il divertimento era assicurato, raccontava puntate, dove eravamo rimasti ieri sera, alla battaglia del 66, quando il tuo nonno, assieme al generale Alfonso alla Marmora, un momento, io non ho mai detto che mio nonno, bastiano come me, abbia combattuto con la Marmora, con chi stava allora, con gli austriaci? Siete matti? Mio nonno si faceva i fatti suoi, e quando mia ragazzina raccontava quei terribili avvenimenti, ripeteva, Bastiano, tu hai il mio stesso nome, se vuoi arrivare ad avere la mia stessa età, 85 suonati, non hai mischiati mai in risse né in guerra, perché se cosa ci vuole la vocazione, vediamo la battaglia del 24 giugno, l'orci duca Alberto, comandante delle troppe austriache, non era Radetzky, interruppe il bobar, ignorante, Radetzky combattene la prima battaglia di Custozza, quella del 48, minargo studià, i libri me li gamagna la vacca, allora stai zitta e non interrompera, dunque l'orci duca aveva il quartier generale alla berettara, tra Custozza e Somma Campagna. Gli italiani avevano passato il Mincio a Monzambano e si sentivano da lontano i primi colpi di cannone, per le scariche di fucileria, sempre più vicine, sempre più fitte. Mio nonno con alcuni amici si rifugia nella cantina della villa ad un conte, che si era procurato fucili ad avancarica per gli eventuali volontari, sciopo e bacchetta. Si fece qualche tira di prova contro le galline, ma mia nonna non voleva cimentarsi. Diceva che il sangue gli faceva impressione, anche quello dei polli, tutta la giornata restò nelle cantine del conte, decisa di uscire, sa la battaglia finita. A vincitore proclamato. Quale fosse dei due, non aveva importanza. Purché facesse presto, seduta accanto a una damigiana, succhiava la canna di gomma come un biberon. Ma quando arrivò la notizia che le ostriche avevano preso il sopravvento e stavano per raggiungere la villa, per snizzare gli eventuali franchi tiratori, ebbe un lampo di paterattica risolutezza. Amici, disse agli altri nascosti nel suo terreno, arrivano gli austriaci. Bisogna far qualcosa, questo vino non deve cadere nelle loro mani. Si prendono pure la Lombardia, si prendono Milano, ma il vino no, è nostro, frutto del nostro sudore. Ciò detto fracassarono a caccia le damigiane, e siccome a una botte non riuscivano a tagliare il tappo, la pugnalarono con una baionnetta. La fine di Giulio Cesare Quel giorno a custodia si versò molto sangue, ma anche molto vino. Ci fu anche chi bevette un brodo, ma questa forza bello ci ha raccontato. No, protestò all'uditario con un grido così forte che i boi girarono il bus a scoccettissime. Non vi ho raccontato la storia della piccola vendetta a Lombarda. Della piccola vendetta a Lombarda. Vorrei dire a vendetta, lo corrasse un ragazzino che aveva appena letto in classe il cuore di De Amicis. Dico vendetta e capirai subito perché. Dopo il famoso episodio del quadrato di Vilafranca, che difese il principe Umberto, quello che poi si era ucciso a Monza. Dall'assalto degli Ulani austriaci, un soldato bergamasco entra all'albergo, il sole. Di Vilafranca e ordina un brodo. Scusate. Quando fu il momento di pagare, restò di sasso, mezza lira. In quei tempi un giornale costava 5 centesimi. Nonostante il prezzo strazinesco, non protestò, però si vendicò. La vendetta è un piatto che a differenza del brodo va servito freddo. Meglio ancora, un po' alla volta. Terminata la guerra e annesso il veneto all'Italia, il padrone dell'albergo riceve una lettera prima di franco bollo, paga la tassa, apre l'agio. Il vostro brodo era buono, ma un po' caro, ma un po' caro. Passa un mese, arriva una seconda lettera, anche questa senza francatura. Il destinatario paga, apre l'agio. Il vostro brodo era buono, ma un po' caro. Così per 3-4 volte, a intervalli non regolari. Ogni volta il destinatario vuoi per naturale curiosità, vuoi per il timore di respingere una missiva, che poteva teoricamente contenere notizie importanti. Pagava, apre l'agio e leggeva. Il vostro brodo era buono, ma un po' caro. Erano diventati così frequenti questi messaggi postali e di pubblico dominio alla baffa del bergamasco vendicativo, che il postino, quando arrivava una lettera tassata, chiamava dalla strada il padrone dell'albergo, gridando per chiudisse il vicinato. Ehi, Beppi, te gli ha scritto quel dal brodo. Certo, queste cose non si leggono sui libri di storia. Effettivamente queste cose nessuno le aveva mai lette, e tutti ascoltavano abitamente le storie di Guara che nella bocca del vecchio sapiente contadino acquistavano un sapore di fiaba. Fu una giornata sanguinosa ripresa al vecchio e uno degli episodi più cruenti si svolse in località San Rocco, dove un capitano degli Ulani al comando di mezzo squadrone, una sessantina di soldati, affrontò i nostri assai superiori di forza, perdendo quasi tutti gli uomini. Finita la guara, fu messo sotto inchiasto. Volevano deferirlo alla corte marziale. L'imputazione era delitto di strage, per aver troppo rischiato e fatto morire troppa gente. Ma dall'indagine risultò che proprio il sacrificio di quegli uomini aveva fermato in quel settore l'avanzata del preponderante nemico italiano. Senza quella dolorosa decisione, le sorti generali della battaglia forse avrebbero preso un'altra piega. Perciò gli inquireti decisero, niente corte marziale. E no, protestò l'orgoglioso capitano, o mi mandate sotto processo, o mi date la medaglia dell'ordine di Maria Teresa. L'ordine di Maria Teresa era in altissima onorificenza, concessa al militare al quale, senza aspettare ordini superiori, avesse di propria iniziativa preso una decisione rischiosa, ottenendo un risultato brillante e tanto più sorprendente quanto più scarse erano le iniziali probabilità di successo. Il capitano aveva la metaglia di Maria Teresa. Molti anni dopo, in un ricevimento alla corte di Vienna, un ostro diplomatico che aveva combattuto, a custozo, con una bella ex capitano ed ex nemico, e rievocando quella giornata, gli domandò come mai avesse osato sfidare con un pugno di uomini. In posizione strategicamente infelice, un avversario quattro o cinque volte superiore. Ad ogni modo mi inchino davanti al suo coraggio, concluse l'italiano. Il merito, rispose su arredindolo austriaco, è tutto del monocolo che quella mattina mi calda a terra, frantumandosi, e il caso vuole che non avessi nel taschino del panciotto il solito monocolo di riserva. Fu una fortuna per l'Austria, perché non vedi più nulla, non mi ho resi conto della vostra superioreità numerica e tranquillamente ordinai la carica. Ma attacco se cose che le ha raccontate, domandò uno prontamente zettito dagli altri, ai quali come tutta la gente semplice, più che l'autenticità dei fatti. Interessava un partazzo di evasione per la fantasia, e il cortile della cascina si trasformava nella corte di Vienna, i buoi da lavoro in distria ribardati per la parata militare, e i mugiti in squilli di tromba che annunciano l'arrivo dell'imperatore. me li ha raccontata la maestra quando ero amoroso dalla sua cameriera. Mi diceva inoltre che i generali italiani non fecero roba alla figura, a un certo momento il generale Giuseppe Govone, comandante della 9a divisione, trovandosi in difficoltà con le truppe spossate dal combattimento, prive di cibo e di munizioni, mandò un messaggero da custodio a Villa Franca per chiedere aiuto al generale Enrico Morozzo della Rocca, comandante del terzo corpo d'armata, tranquillamente seduto a sorbire un gelato all'albergo del sole. Quello del brodo, quello del brodo, se non che al mattino il capo di Stato Maggiore, Alfonso alla Marbora, aveva ordinato a Morozzo della Rocca di non muoversi e lui non si mosse alla lettera. Sebbene l'ordine fosse largamente superato dagli eventi, lo stette con le armi al piede, mentre Nino Bixio e il principe Umberto, comandante di due divisioni totalmente inattive, insistevano per correre in aiuto del povero Govone. Niente da fare, Morozzo della Rocca, prima di prendere un'iniziativa, voleva l'autorizzazione dei superiori. Se al suo posto ci fosse stato il capitano austriaco, quello del monocolo. Probabilmente le cose sarebbero andate in maniera diversa. Non è finita. Gli ufficiali mandati da Vilafranca a cercare la marmore perché delle istruzioni non lo trovarono. Il capo di Stato Maggiore sempre in giro per il fronte e nessuno sapeva esattamente dove fosse. Intanto la situazione precipitava. Così eri con Morozzo della Rocca, in mancanza di nuovi ordini, si attenne a quelli vecchi. Diceva la vecchia maestra che nell'obbedienza cieca entra sempre un po' di ciecità. e siamo a pagina 151. in maniera diversa. Sì. Sì. Alla prossima. Grazie.